da mani il sorriso per la signora bruna questo video in suo onore entrata nel bosco c'è un sentiere dove passano decine di persone e lei cosa ci ha trovato i due funghi più belli della giornata si gira questo questo è un muro quello chiamano nero cioè praticamente è un pinicola e quest'altro invece è un settembrino o edule mangiato da qualche lumachetta ma c'era la lumaca sopra sei contenta ti è contenti è entrata un quarto d'ora fa ma chiamateci me le viene a prendere perché mi danno noia nel senso che se non li spacca salutino agli amici ciao